Musica Ben ritrovati cari telespettatori, buongiorno a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV Occhio ai giornali che come tutte le mattine alle 7.30 vi tiene informati su quello che scrivono i quotidiani Il Carlino e il Corriere Adriatico, le edizioni di Pesaro e Urbino Andiamo subito a vedere però il calendario, il santo del giorno, le previsioni e poi cominciamo con i titoli Oggi è Santa Chelidonia di Subiaco, il sole è sorto alle 7.20 e tramonterà alle 18.29 minuti Il cielo oggi sarà sereno, con temperature senza variazioni di rilievo Avremo giornate più o meno fotocopia sia oggi che domani, sabato 14 e domenica 15 ottobre Quindi godiamoci tutte queste giornate di cielo sereno con temperature anche addirittura domenica in aumento La città più calda oggi sarà Ascoli Piceno che toccherà i 24-25 gradi Allora, si è chiusa l'indagine sull'incendio alla sede di Fano TV Dunque i giornali oggi dedicano ampio spazio a questa indagine che appunto si è conclusa Allora, il titolo del Corriere Adriatico in prima pagina C'è anche l'accusa di stalking Fano TV, inchiesta conclusa, Zaccarelli indagata per danneggiamento e atti persecutori La replica della difesa, una macchinazione Entreremo tra poco e vedremo le altre pagine Fincantieri invece e MCSC I soldi ci sono Grande successo per il convegno del Corriere Adriatico Il ministro del Rio dice per il Porto Dorico pronti 60 milioni investano anche i privati Allora, entriamo nelle due pagine del Corriere Adriatico Ve le facciamo vedere tutte e due insieme Eccole qua, due pagine dedicate a questa inchiesta che la Procura ha chiuso Stalking e danneggiamento, dicevo Fano TV, indagine conclusa Zaccarelli accusata di atti persecutori Contro il giornalista e la sua convivente La replica, tutta una macchinazione Il PM Silvio Cecchi non chiede l'archiviazione Il tentato incendio declassato Di Lucera indagato come esecutore E poi, Collino solo tenera amicizia A cavallo ci vado L'indagata principale sostiene che Lady Lu è malata e zoppica Balestra preferisce tacere Il legale dice parlano gli atti L'avvocato di Di Lucera Aspettiamo il rinvio a giudizio Il collaboratore di Fano TV, la sua convivente L'editore Marco Ferri sono indicati dal PM come parti offese Questo è il Corriere Adriatico Andiamo a vedere il resto del Callino In primo piano i marciapiedi Che sono un po' colabrodo Sono pericolosi come in Piazza Redi Per esempio privati ad uso pubblico Anche in Piazza Redi sono da rifare Il Comune vuole sborsare solo il 50% Ma c'è il precedente di via San Francesco E poi anche qui in primo piano La vicenda e l'inchiesta che si è conclusa La manager minacciava l'amante Ti molesto finché non torni da me Messaggini e telefonate Verrò sotto casa tua La donna accusata di aver creato un falso profilo Facebook Per offendere Balestra e la moglie Indagini concluse Stalking dell'ex candidata contro il giornalista Poi lo sport In primo piano con la voglia di basket La voglia di VL E torna la Virtus Bologna e riappare la curva Sarà un sabato da tifosi E poi la via in centro Ridotta a VC VC sta per Water Closh Insomma per Toilette Vicino all'ufficio del sindaco Le proteste dei residenti Qualcuno intervenga E questo è il degrado di strada delle Zucchette Anche qui subito la pagina di Pesaro Primo Piano Con l'inchiesta di Fano TV Sessione social di Zaccarelli Vengo sotto casa tua e ti molesto finché non torni insieme a me Il PM dice Ha fatto stalking a Balestra e sua moglie Dall'SMS vedrai che botto Tra non molto scoppierà una super bomba Allaccia le cinture Ma l'incendio crea pochi danni Zaccarelli aveva un falso profilo su Facebook Secondo il pubblico ministero L'ex candidata Prima è supplichevole Poi però diventa minacciosa Tutto viene ricostruito in questi due box Il 23 marzo scorso Poco dopo le 20 e 30 Un uomo incappucciato in tuta bianca Lancia benzina sotto la porta d'ingresso di Fano TV E appicca il fuoco Le accuse per la presunta mandante sono due Danneggiamento aggravato dalla minaccia e stalking Ai danni di Balestra e della moglie E queste sono le due pagine Che ci riguardano E che riguardano appunto l'incendio L'attentato che c'è stato nel marzo scorso Allora, Tributi La pagina di Fano del resto del Carlino Corsa per la riscossione Per salvare i posti Caso Duomo Gpiale Ditte interessate hanno tempo fino al 16 Incerta la sorte di 21 dipendenti Simona Ricci della CGL Dice per salvaguardare l'occupazione Potremmo proporre anche la riduzione dell'orario Poi si getta dal terzo piano del Santa Croce La cronaca miracolata Una quarantenne intercetta dei teloni Prima di cadere a terra La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico È per l'inaugurazione in anteprima Per i giornalisti di Fano Center L'Ocean per capirci Fano Center che spettacolo Questo è il titolo Con tanto di fotografie Si fa quasi fatica da questi piccoli scorci A riconoscere Almeno così come era fino a qualche settimana La galleria È stata rinnovata Oggi c'è l'inaugurazione Quella per il pubblico Buona l'anteprima del nuovo ipermercato Aspettando appunto l'inaugurazione di oggi Shopping e ristorazione Il sindaco Sieri è entusiasta e dice Verranno qui anche da altri paesi L'amministratore delegato di gallerie e commerciali Favro parla di una nuova formula Ad un centro nato nel 1994 Quando qualcuno probabilmente si ricorderà il vecchio Joyland L'aeroporto riprende quota E sono stati sbloccati i conti correnti Delle società che erano inutilizzate Questa è la notizia pagina 14 del Carlino Poi sotto sul caso Carifano Di questi sportelli che chiudono Parla Giacobbi Chiudere le filiali non vuol dire ridimensionare Il vice presidente della fondazione I cittadini avranno così più servizi Urbino, la pagina di Urbino Pian Severo sarà sicura Più sicura il traffico del mattino È un problema da anni Le soluzioni comunque ci sono Sono in vista Il sindaco illustra gli interventi Contro la congestione del traffico L'università astrofisica Nuove scoperte dal gruppo Virgo Lunedì una conferenza stampa Urbino Washington La Valle del Cesano Ex ospedale da riqualificare Barbieri il sindaco di Mondolfo Non sa di cosa parla Comitato per la salute pubblica Attacca il sindaco sulle prospettive Della sanità locale E poi del Rio Siamo a Pesaro Siamo scusate sulla pagina Primo piano delle Marche Del Rio spinge per il rilancio Del porto di Ancona Partite vi garantisco 60 milioni Pronto soccorso Siamo a Pesaro Pronto soccorso come un imbuto Pazienti trattati come dei pacchi Intervengono i sindacati CGL e Cisle Will Ecco le criticità dell'emergenza La carenza dei posti letto E i taxi ambulanza E poi c'è uno sciopero oggi Quindi se i vostri studenti Tornano a casa O non vi hanno avvisato Insomma sappiate che oggi C'è in molte parti d'Italia Uno sciopero Per l'alternanza scuola-lavoro Che agita il mondo studentesco Anche i giovani pesaresi Sono coinvolti oggi Nella manifestazione nazionale Riforma Pronti a mobilitarci Sulla riforma sanitaria Ancora i sindacati Chiedono un incontro Con la regione La regione dicono I sindacati Non ci ha trasmesso Nemmeno un solo dato Qualsiasi tipo di informazione Per instaurare un dialogo Area vasta I sindacati richiamano Vertice sindaci Dopo l'ultima assemblea Su cui è caduto il silenzio Delusione Per le mancate risposte Della regione Non c'è nessuna volontà Come dicevo Di instaurare un dialogo Poi la questione della piazza Della creatività A Pesero Via al cantiere Fino a Natale Già transienata All'area del corso Tra la pescheria E il Marangoni Bivacchi Tende container Dormitorio Terra di nessuno L'ex centro del riciclo Rifugio per senza tetto E nomadi Il vecchio deposito Della multiservizi E si fa razzia Di tutto ciò Che resta Queste sono le immagini Eloquenti Di come è stato ridotto E poi l'ultima pagina Della nostra segna stampa È per La vicenda O meglio Questa storia Che purtroppo è finita male Per un capriolo Un capriolo da soccorrere La missione però È risultata impossibile Travolto di notte Sulla Monte Labbatese Il servizio funziona Solo di giorno Diversi automobilisti Si sono fermati Per cercare di aiutarlo Ma insomma Non c'è stato nulla da fare Il capriolo è morto Poco dopo E poi uno schianto Uno schianto Sulla statale 16 Feriti due scooteristi A Fosso Signore All'altezza dell'intersezione Con la panoramica Dell'artizio La statale È stata a teatro Tra l'altro qualche sera fa Di un altro incidente Questa volta mortale E ci sono state due persone A bordo di uno scooter Che sono finite in ospedale Ci fermiamo qui La rassegna stampa è finita Noi ci rivediamo questa sera Alle 20.30 Con il telegiornale Se avete segnalazioni Mi raccomando Segnatevi in rubrica Sul vostro telefonino Il 338 4968 250 Sotto la voce Fano TV E se c'è qualcosa Fatecelo sapere Poi ci metteremo subito in movimento E questa sera nel telegiornale Vi diremo tutto Grazie per averci seguito Buona giornata